L'efficiente di difficoltà diventa sempre più elevato, nel senso che è sempre più difficile arrivare e stare sul pezzo in questo momento del campionato. La squadra come l'ha vista in settimana, presa come anche da altre vicende, perché insomma si sta parlando molto di questo problema contrattuale, della spalmatura di stipendi, martedì andranno all'ufficio di lavoro, come l'ha vista la squadra obiettivamente? L'ha vista abbastanza comunque sereno, io mi auguro che tutto si risolva proprio per il bene del Bari, perché effettivamente sarebbe un'ulteriore sconfitta ancora riuscire ad aggravare un po' questa annata con una situazione del genere e che tutto si possa risolvere solo in una sconfitta tecnica sul campo e che possa la società invece ricostruirsi il suo futuro. Questo è proprio il mio augurio che faccio di cuore e vediamo in settimana come le cose si risolveranno. Lei da uomo di sport, da uomo di maggiore esperienza rispetto ai ragazzi, ha provato a dar loro un consiglio anche in quest'ottica? Io gli ho detto anche ai ragazzi, se siete in una società che tutte le garanzie che vi può dare ve le menterà sicuramente, per cui sotto questo aspetto penso ci sia proprio di dare fiducia. E poi però vedi sono sempre anche situazioni un po' individuali, singole, perché ognuno deve curarsi il suo interesse, ma il giocatore è una piccola azienda individuale, in base a quello che decideranno con i loro manager. Faranno insomma, più di questo io non posso fare, anche se ti dico che ho visto la squadra comunque molto disposta a discutere e ad affrontare il problema per risolvere, poi mi auguro che si risolva. Sul calendario ci sono tre partite ancora, per i tifosi ce n'è una, che non è la prossima e l'altra ancora quella con Lecce, no? Per la squadra non c'è anche una, come dire, una problematica? Cioè se staccasse la spina probabilmente non riuscirebbe di nuovo a riattaccare? C'è anche una logica di questo tipo, essere concentrati anche per non perdere il contatto con la realtà del campo? Noi abbiamo questi impegni di lavoro che devono essere vissuti in modo, al di là del Lecce, noi abbiamo Palermo, possiamo andare a Palermo a fare una figuraccia, anche se siamo in una situazione magari un pochino sofferta, per cui dobbiamo comunque essere in grado di affrontare, come dovremmo essere comunque in grado di affrontare il Lecce, e questo è indubbio, non possiamo staccare la spina. E' chiaro che in questo momento ci sono altri problemi, che non pensare a quale sarà il prossimo allenatore del Bari, ma qual è almeno un accenno c'è stato da parte di qualcuno della società? Cioè qualcuno ne ha parlato con lei, non so, un accenno, lei che ne pensa, zero proprio, non abbiamo proprio trattato questo argomento. Non abbiamo trattato assolutamente, se poi penso che non sia neanche tanto il momento, poi la società avrà le sue strategie, ma è giusto che sia così, non bisogna nemmeno farsi condizionare più di tanto a certe cose. Quanto le piacerebbe magari avere una chance col Bari in Serie B? E' chiaro che Bari è sempre una piazza, è una realtà, poi quando sei coinvolto in queste situazioni ancora ti leghi un po' di più sotto questo aspetto, perché c'è anche un coinvolgimento un po' così a livello umano, però è normale che noi siamo, il mio impegno è fino a giugno, poi la società fareà le sue scelte.